Ardha Matsya Andrasana Sedete con le gambe dritte e unite di fronte a voi. Piegate la gamba sinistra e tiratela sotto la destra. Sollevate e piegate la gamba destra e mettete il piede destro fuori dalla gamba sinistra. Afferrate le dita del piede destro con la mano sinistra, tenendo il gomito fuori della gamba destra. Piegate il braccio destro dietro la schiena e respirando normalmente, rimanete in questa posizione il più a lungo possibile. Riallungate le gambe e sedete con le gambe unite e dritte di fronte a voi. Piegate la gamba destra e tiratela sotto la sinistra. Sollevate e piegate la gamba sinistra e mettete il piede sinistro fuori dalla gamba destra. Afferrate le dita del piede sinistro con la mano destra, tenendo il gomito fuori dalla gamba sinistra. Piegate il braccio sinistro dietro la schiena e respirando normalmente, rimanete in questa posizione il più a lungo possibile. Piegate il braccio sinistro con la mano destra. Piegate il braccio sinistro con la mano destra. Piegate il braccio sinistro con la mano destra. Piegate la gamba sinistra e tiratela sotto la destra. Sollevate e piegate la gamba destra e mettete il piede destro fuori dalla gamba sinistra. Afferrate le dita del piede destro con la mano sinistra, tenendo il gomito fuori dalla gamba destra. Piegate il braccio destro dietro la schiena e respirando normalmente, rimanete in questa posizione il più a lungo possibile. Riallungate le gambe e sedete con le gambe unite e dritte di fronte a voi. Piegate la gamba destra e tiratela sotto la sinistra. Sollevate e piegate la gamba sinistra e mettete il piede sinistro fuori dalla gamba destra. Afferrate le dita del piede sinistro con la mano destra, tenendo il gomito fuori dalla gamba sinistra. Piegate il braccio sinistro dietro la schiena e respirando normalmente, rimanete in questa posizione il più a lungo possibile.